Attenzione, in accordo con la Raggi e con Gualtieri abbiamo adottato e comprato un invece che un cane, un cinghiare, anzi un magliale, anzi è un misto tra cinghiare e magliare che si si chiama a Peppe, in aperto accordo con Gualtieri, questa l'ha fatta lui, non lo so, Peppe non cagare, peppe fatti vedere in faccia, madonna mia che schifo, sono sassi, Peppe fatti i sassi invece che la cacca, Peppe lo sai a chi piace tu, la Raggi, i quartieri, questi qui, vabbè ormai l'abbiamo adottato, ci siamo adeguati alle norme del comune di Roma, Comunque abbiamo adottato un cinghiale di etnamite per la precisione, Gualtieri vogliamo uno sconto sull'ici, Peppe? Peppe? Ma sente? Peppe? Peppe sì, Peppe? Peppe? Ma quanto c'ha? Peppino? Mannaggia, dice che a casa fai il cattivo, diventa tipo un bel maialone, no? Peppe al bar, l'unico bar che fa entrare a Roma con il permesso di raggi e quartieri, anche i cinghiali, ciao Peppe, ciao Peppe, io l'ho detto che siamo arrivati alla presa in giro, l'hanno capito pure i carabinieri che parcheggiano dove non si può più, da bravi cittadini, rispettando le regole del sindaco, anzi, rispettando le regole dei sindaci, serve? Vado a fotografare pure io il cinghiale? e continuo a riprendere, è raro! Peppe, è raro, è raro ma è umano un mestre, come diceva Gualtieri, è la raggi, è la raggi, è la raggi! Peppe che sei trovato? è tutto! Ma che si mangia? Tutto, qualsiasi cosa tipo, tranne patate e funghi crudi però, se gli cuoci si mangia! vai Peppe, che qua l'hanno non passa, fai il tuo lavoro, vai! guarda là che schifo che ha fatto l'hanno, vai Peppe! guarda Peppe, guarda io il cinghiale! guarda Peppe, guarda qua c'è sta pranzo, cena, colazione! la cicoria c'è! la cicoria c'abbiamo di tutto! è fatta? è fatta, hai vinto! è fatta, ristorante 5 stelle, quattro ristoranti! eccoci qua! vai Peppe, vai Alessandro Borghese, qual è meglio? andiamo a pulire i parti! vabbè, per Roma è tutto, arrivederci! salve! 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info